Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi vi parlo di un caso che ho trovato assurdo. Vi anticipo che il protagonista di questa storia è un manipolatore di prima categoria, ma non vi dico altro. Fatta questa premessa, immergiamoci nel caso di oggi. Armando Chavez nasce il 5 marzo del 1965 e cresce a Houston, Texas, dove dapprima vive con entrambi i genitori e sua sorella maggiore. Quando ha circa sei anni, però, suo padre lo porta via con sé e di lì a poco i coniugi divorziano. Presto il papà si risposa e il bambino si ritrova così ad avere una matrigna e dei fratellastri. A causa di questa delicata situazione, Armando non rivedrà mai più sua madre, per cui si ribella e non dà affatto ascolto alla sua matrigna. Durante tutta l'infanzia, Armando diventa un vero incubo per la famiglia. Poi, durante l'adolescenza, subisce un evento problematico. È vittima di un infortunio che credo sia importante raccontarvi. Un giorno, mentre sta giocando a football al liceo, Armando si fa male. Subisce un rilevante trauma cranico. Viene trasportato d'urgenza all'ospedale, dove rimane per tre giorni. A seguito di questo tragico epitodio, Armando non sarà più lo stesso. La sua personalità cambia radicalmente. Certo, fin da bambino si ribellava la sua famiglia, ma con il prossimo mostrava un carattere dolce e premuroso. Tuttavia, dopo il trauma cranico, Armando si comporta come un ragazzo freddo, chiuso in se stesso, distaccato, non solo. Sviluppa la tendenza a manipolare gli altri e verrà descritto quasi come un sociopatico. La sociopatia è un disturbo che impedisce all'individuo di adattarsi agli standard etici e comportamentali della propria comunità socioculturale di appartenenza. Un sociopatico manca di empatia, non presta attenzione ai sentimenti di un'altra persona, ignora i diritti degli altri, ma anche le norme sociali, senza rimorsi. Dunque può rappresentare una seria minaccia, esibire atteggiamenti criminali, fondare sette pericolose, insomma, causare danni a se stesso e agli altri. All'età di 16 anni Armando decide di andare via da casa. Da questo momento non parlerà mai più con la sua famiglia. Mi piacerebbe fornirvi più dettagli su questa scelta, ma purtroppo non ci sono fonti a riguardo. So con certezza che Armando conclude il liceo per poi iscriversi alla Notre Dame University, in California, col fine di conseguire una laurea in chimica. All'età di 20 anni, mentre frequenta l'università, inizia una relazione con una ragazza di nome Rosemary, che ha 23 anni. In breve tempo i due si sposano e mettono presto al mondo anche un figlio. Nel corso del matrimonio, fin dai primi tempi, Rosemary ha modo di cogliere alcune coupe sfumature della personalità di Armando, se così possiamo definirle. Prima di tutto emerge che è un bugiado di prima categoria, mente letteralmente su tutto, anche sulle questioni più futili in cui le menzogne non hanno senso. Ma molte bugie Armando le racconta sul suo passato e su se stesso, ad esempio sostiene di essere il più bravo studente dell'università, che sta ancora frequentando. Il ragazzo è piuttosto intelligente e all'università ottiene buoni risultati, ma non è davvero il migliore tra gli iscritti. Rosemary inoltre nota che suo marito ha delle strane e inquietanti abitudini. Quando torna a casa dal lavoro, spesso lo trova nella vasca da bagno, mentre si preleva del sangue da solo. Armando ne è ossessionato e trascorre ore intere nella vasca, circondato da aghi, a rilassarsi. Come se non bastasse, spesso dice a Rosemary che lui sarebbe in grado di uccidere qualcuno e farla franca. Avrebbe potuto immergere il corpo della vittima in alcune sostanze chimiche per dissolverlo. Poco dopo questa rivelazione, l'uomo chiede alla moglie di stipulare un'assicurazione sulla vita, dove lui risulterebbe l'unico beneficiario. Dopo questo aneddoto, ho già avvertito il primo brividino sulla vicenda. Se fossi stata Rosemary, la prima affermazione di Armando, posso commettere un omicidio e farla franca, seguita dalla richiesta di farmi stipulare un'assicurazione sulla vita a suo vantaggio, mi suggerirebbe soltanto una cosa, scappare il più lontano possibile. Fortunatamente dopo tre anni di matrimonio va esattamente così. Rosemary prende il figlio e se ne va. Armando non avrà mai più l'occasione di vederla. Al termine del suo matrimonio con Rosemary, Armando ha circa 25 anni, si è appena laureato in chimica e ora sa qual è il prossimo passo da compiere. Diventare un medico, principalmente per il prestigio e la reputazione che può ottenere praticando questa professione. Così fa domanda per la facoltà di medicina, tuttavia non riesce a ottenere voti abbastanza alti ai test per accedervi. Ma secondo voi questo rappresenta un problema per Armando? Ma ovvio, assolutamente no. Riesce in qualche modo a falsificare i risultati dei test d'ingresso e accede alla facoltà di medicina dell'Università dello Utah. Mentre la frequenta, Armando assume dei comportamenti davvero strani e si avvicina a parecchi studenti e propone loro di effettuare un prelievo di sangue. Molti ragazzi e ragazze lo mandano a quel paese, come giusto che sia, ma una parte di loro in realtà accetta. L'eccentrico futuro dottore inoltre viene sorpreso in diverse occasioni rubare aghi e forniture mediche. Poi, siccome desidera che gli altri provino compassione per lui ma soprattutto vuole attenzione, inizia a raccontare che sua moglie Rosemary e suo figlio sono morti in un incidente stradale avvenuti mentre lo stavano raggiungendo all'Università della California. Quindi si sente anche responsabile. Sono tutti molto dispiaciuti per lui, del resto non hanno motivo di dubitare delle sue parole. Chi mai immaginerebbe che questa tragica storia se l'è inventata? È però evidente per colleghi e professori che Armando ha un carattere irrascibile. Spesso, se si arrabbia, perde totalmente il controllo. E la maggior parte delle volte succede quando qualcuno mette in dubbio la sua intelligenza, magari insinuando che non è abbastanza bravo per diventare un buon dottore. Armando, mentre continua a studiare medicina, svolge anche un lavoro part-time presso un ospedale dove si avvicina a una paziente che assiste spesso, una donna di nome Paula Young. Paula è in cura per una depressione e subisce moltissimo il fascino e il carisma di Armando. Ne resta folgorata al punto che, una volta dimessa, gli chiede di trasferirsi a casa sua per darle un ulteriore sostegno mentale e tenerle compagnia. Armando non accetta, ma spesso le fa visita e le prepara i pasti. Paula è sempre felice quando accoglie il suo adorato ospite, fino a quando, un giorno, Armando le prepara delle verdure che hanno proprio un sapore strano. Lei vorrebbe lasciarle nel piatto, ma lui insiste che deve mangiare tutta la porzione. Paula si sforza, ma a ogni boccone di verdura resta disturbata da quel sapore così aspro. Non passa molto tempo prima che la donna inizi a stare male. Averte una sensazione di bruciore al petto e allo stomaco. Vomita senza sosta ed è affetta da dissenteria. È dunque necessario portarla in ospedale e alla svelta. I medici, quando la visitano, ordinano che venga immediatamente trasferita nel reparto di terapia intensiva. Hanno scoperto che Paula ha una grave insufficienza renale, problemi di cuore e anche al fegato. La operano quindi d'urgenza, l'intervento riesce, e solo successivamente emerge che Paula era stata avvelenata con l'arsenico. A questo punto immagino che starete pensando, ok, è chiaro come il sole. Armando ha avvelenato quelle verdure con l'arsenico. È lui il colpevole. Anche Paula lo sa e non può fare finta di nulla nonostante questa situazione le spezzi il cuore perché si fidava di lui. Forse ne era addirittura innamorata. Armando quindi viene indagato ma non si riscontrano prove sufficienti per attribuirgli il crimine. Dato che Paula soffre di depressione, la polizia arriva a pensare che la donna avesse tentato il suicidio. Il caso è chiuso, così Armando la fa franca. Arriviamo all'inizio degli anni 90, quando Armando viene espulso dalla facoltà di medicina. Perché? Soltanto adesso scoprono che aveva falsificato i risultati dei test d'ingresso. Quindi penserete, il sogno di Armando di diventare medico si è infranto? Ma assolutamente no. Anche se non ha portato a termine i suoi studi, si ripete che in qualche modo riuscirà comunque a diventare un medico. Anzi, si sente pronto per una svolta, vuole cambiare nome, ne desidera uno che abbia soltanto lui, quindi un nome inventato. Si chiamerà Dyson Hossenkopf. In pratica si chiama come l'aspirapolvere o ancora il phon della Dyson. Ci vuole fantasia in ogni caso. Complimenti. Nessun altro nel mondo ha questo nome e questo cognome. Pensa che fierezza. Gli ha scelti perché suonano come un misto tra la lingua tedesca e quella giapponese, appartenenti a razze che per lui sono le più forti, superiori. È a questo punto che Dyson incontra la sua vittima principale. E uso il termine principale perché anche se il caso Hossenkopf coinvolge parecchie vittime, ahimè, questa ragazza farà davvero una fine terribile. Il suo nome è Gurley Chu, nasce il 27 agosto del 1963 in Malesia, dove vive con genitori e fratelli. Gurley tiene tantissimo i suoi familiari, infatti vivrà insieme a loro fino ai suoi 31 anni. A questa età trova lavoro presso una filiale della banca di Hong Kong in Malesia. Lega molto quella giovane collega Susan, le due si raccontano tutto e progettano viaggi insieme. Nel 1992 Gurley e Susan stanno visitando gli Stati Uniti e decidono di andare a un parco divertimenti acquatico, il SeaWorld, a San Diego, in California. È proprio in questa occasione che Gurley conosce Dyson, il quale come al solito adotta un comportamento affascinante, invita entrambe le amiche fuori a cena e Gurley si innamora presto di lui. Nonostante ciò, quando la ragazza torna in Malesia è convinta che la conoscenza si sarebbe conclusa lì. Certo, Dyson è un gran bell'uomo, carismatico, ma i paesi in cui vivono sono lontani. Tuttavia, lui la sorprende perché le scrive una marea di lettere d'amore fino a quando, di colpo, le propone di mettersi insieme. Gurley accetta, così lui le chiede di lasciare la Malesia e dunque i suoi cari per trasferirsi negli Stati Uniti. Quindi, all'inizio del 1993, Gurley sale su un aereo diretto in America e, quando a terra, viene accolta da Dyson, che stringe tra le mani un anello di fidanzamento dal valore di 7.000 dollari. A lui piace esibire la sua condizione di uomo benestante e affermato dottore. Passano appena otto giorni e Dyson e Gurley si sposano. Dopo il matrimonio, la novella coppia si stabilisce ad Albuquerque, nel New Mexico, e Gurley trova un lavoro presso una banca e all'inizio pare che la relazione proceda davvero bene. La ragazza è convinta di aver incontrato realmente l'uomo dei suoi sogni e sta anche conducendo una vita giata perché Dyson sembra avere a disposizione tantissimi soldi. Lui, che a suo dire percepisce uno stipendio da dottore, la rassicura di non preoccuparsi delle loro finanze e possono spendere quanto vogliono. Cambiano automobili molto spesso perché Dyson vuole guidare l'auto più recente uscita sul mercato e vivono in una casa bella e spaziosa. L'uomo ha detto a Gurley che si era laureato nelle università più prestigiose degli Stati Uniti. Le ha raccontato che ha conseguito un sacco di lauree sia quella presso la Cornell University di New York che presso un'altra università a Tokyo. Infine dice alla sua novella sposa che è un chirurgo toracico, cioè specializzato nelle operazioni chirurgiche condotte su polmoni, esofago, parete toracica. Ma non penserete che Dyson abbia raccontato queste frottole soltanto a Gurley? Assolutamente no. Le racconta letteralmente a chiunque. E' a questo punto che l'uomo incontra la 72enne Sunny Blake, un'ereditiera molto ricca che stava conducendo una vita perfetta finché nel 1993 riceve una terribile notizia. Le viene diagnosticato un cancro al seno. Purtroppo quando i dottori lo scoprono il tumore è già a uno stadio piuttosto avanzato. Sunny ora non vuole altro che un po' di compagnia di svago, evitare di rimanere da sola, ma piuttosto desidera trovare qualcuno che le stia accanto fino alla fine dei suoi giorni. Così decide di scrivere un annuncio su un giornale locale che recita Dorna Ricca in cerca di un amante. Secondo voi chi leggerà questo annuncio e penserà di aver fatto jackpot? Ovvio! Dyson! L'uomo non perde tempo, si mette in contatto con lei e va subito a conoscerla. I due iniziano a uscire e dopo un paio di appuntamenti Dyson dice a Sunny che è un genetista all'avanguardia. Lui, proprio lui, aveva inventato un siero che le avrebbe annientato il tumore al seno. Avete capito bene, quest'uomo sostiene di aver trovato una cura per il cancro. Ma non è finita qui perché aggiunge che ha sviluppato anche un altro siero capace di invertire l'invecchiamento, quindi potrà ringiovanire Sunny. Per le orecchie della donna, che spero ovviamente di salvarsi, le parole di Dyson sono musica. Sunny addirittura decide di abbandonare le cure tradizionali. Dyson diventa il suo medico personale che lei paga profumatamente, visto che i due sieri sono molto costosi. In realtà tutti i trattamenti a cui lei sottopone sono fasulli. Dyson le cura il cancro somministrandole la vitamina B e le inietta il suo sangue come siero anti-invecchiamento perché sostiene che abbia delle proprietà rigeneratrici. Sapete quanto paga Sunny per queste cure? Tre, finte, ben 25.000 dollari al mese. Arriva poi il momento in cui l'uomo racconta a Sunny quella storia che aveva già messo in giro mentre frequentava la facoltà di medicina. Sua moglie e suo figlio erano morti in un incidente stradale. Ora però aggiunge un capitolo in più alla vicenda. Essendo un genetista innovativo, vuole riportare in vita suo figlio. Rivela Sunny che poco dopo l'incidente era riuscito a ottenere una ciocca di capelli del bambino dunque è in procinto di ricreare geneticamente suo figlio in un laboratorio. Sunny gli crede, è ammirata e lui ne approfitta per impietosirla. Le dice che quando suo figlio tornerà in vita avranno bisogno di una nuova casa. La donna, ormai ben manipolata, decide di acquistarla per loro ma non si ferma qui perché gli regala anche 500.000 dollari. Io non riesco a immaginare una donna che regala gli occhi chiusi a un altro essere umano 500.000 dollari. Sono un sacco di soldi, in ogni caso. Sono ormai trascorsi due anni da quando Sunny ha voltato le spalle ai medici alle cure tradizionali e in tutto questo tempo Dyson le ha iniettato trattamenti essieri completamente inutili. Quindi il cancro continua a fare il suo corso. I figli della donna provano a più riprese a intervenire, a tenere Dyson lontano da lei anche perché vedono chiaramente che la salute della madre peggiora di giorno in giorno. Infine Sunny muore. Nel frattempo vi ricordo che Dyson ha una moglie da un paio d'anni ma ora che ha davvero tantissimi soldi smette di destinarle alla famiglia. Decide di optare per uno stile di vita da scapolo dunque avrebbe viaggiato in tutto il mondo dal Canada alle Hawaii fino ai Caraibi motivando gli spostamenti con il lavoro cioè per eseguire i suoi interventi in tutto il mondo. Ed altronde Gurley sa che è un chirurgo di fama internazionale. Noi che conosciamo la verità sappiamo benissimo che Dyson non è un medico quindi gira il mondo per puro piacere e cerca di incantare le donne con i suoi soldi. Ma soprattutto è sempre in cerca di una nuova vittima da truffare esattamente come aveva fatto con Sunny. È proprio in questo periodo che Gurley fa una scoperta che reputa tremenda non può avere figli come desiderava ma ne parla con suo marito e lui la rassicura avrebbe risolto il problema lei pensa che alluda all'adozione ma Dyson non è d'accordo lui vuole un figlio suo biologicamente parlando e per ottenerlo progetta un piano letteralmente folle. È il 1995 Dyson sta facendo uno dei suoi viaggi di lavoro quando in Canada incontra una donna giapponese di 28 anni di nome Nayoko e pensa di aver fatto bingo vuole un figlio da lei visto che appartiene a una delle due razze superiori e inizia a corteggiarla Nayoko si lascia sedurre e presto rimane incinta. Chiaramente anche lei crede che l'uomo sia un prestigioso chirurgo di fama mondiale dunque anche ricco sfondato ben felice di prendersi cura di lei e del loro figlio È vero non le sta sempre accanto ma è normale visto che effettua interventi in tutto il mondo In verità Dyson ogni tanto deve pur tornare a casa da sua moglie quindi durante la gravidanza di Nayoko fa la spola tra Albuquerque e il Canada fino alla nascita del bambino Assiste al parto ma dopo dà Nayoko una notizia agghiacciante le spiega che hanno fatto delle analisi ed è emerso che lei ha una malattia genetica molto rara sicuramente ereditata dalla sua famiglia e purtroppo trasmessa pure al neonato Al piccolo dunque occorreranno cure mediche per tutta la vita E chi è l'unica persona in tutto il mondo capace di dargli un'adeguata assistenza? Ovviamente Dyson stesso L'uomo manipola Nayoko le fa credere che se non gli avesse affidato il bambino sarebbe morto Lei si sente ridotta all'angolo senza possibilità di scelta così glielo consegna e lui lo porta via con sé Da questo momento Nayoko non vedrà mai più suo figlio Dyson torna in New Mexico e va a casa da sua moglie con il piccolo in braccio appena sottratto alla sua mamma biologica Dice a Gurley che lo ha adottato e insieme decidono di chiamarlo Dimitri Gurley non ha idea che il bimbo sia il figlio biologico di suo marito e della povera donna con cui l'ha tradita Arriviamo ora alla metà del 1996 la coppia sta acudendo il piccolo Dimitri da alcuni mesi ma Dyson è decisamente annoiato vuole trovare un'altra donna di cui approfittare è in questo periodo che incontra una parrucchiera di nome Kimberly Glasgow il suo modo di approcciare non cambia mai la conquista con il suo fascino le dice che è un dottore di fama internazionale è molto ricco ha trovato la cura per il cancro e per ringiovanire le donne con un siero tuttavia con Kimberly cambia un po' la storia drammatizza dicendole che sta morendo a causa della leucemia Kimberly accetta comunque di frequentarlo e un giorno gli racconta che sua figlia di 14 anni deve sottoporsi a un controllo medico perché pratica molto sport Dyson si propone di eseguire l'esame personalmente siccome Kimberly si fida di lui gli fa visitare la ragazzina lo scrupoloso dottore le chiede di spogliarsi l'adolescente segue l'indicazione e lui si limita a fissarle il corpo atletico e nudo ma purtroppo non è finita qui no no perché Kimberly ha altri due figli di 10 e 12 anni che diventano vittime delle follie di Dyson un giorno lui tira fuori delle siringhe e preleva loro del sangue perché mai lo ha fatto bene il tentativo di salvarsi dalla leucemia perché il sangue dei bambini potrebbe guarirlo poi Dyson rivela a Kimberly quanto diceva alla sua prima moglie Rosemary ovvero che lui sa come commettere un omicidio senza farsi beccare senza lasciare alcuna traccia onestamente lo devo dire trovo assurdo che Kimberly non decida subito di porre fine alla relazione con Dyson che procede per circa due anni poi Gurley li scopre ha iniziato ad aprire gli occhi sul proprio marito lo reputa pericoloso e si presenta sul posto di lavoro di Kimberly per metterla in guardia chiariamo non vuole fare scenate né chiederle di lasciare stare suo marito perché è solo suo vuole soltanto avvertirla poi la prega di non parlare a Dyson della sua visita perché potrebbe ucciderla dopo questa discussione Kimberly è davvero scioccata neanche sapeva che Dyson avesse una moglie non dando troppo conto alla richiesta di Gurley decide di affrontarlo va da lui e gli dice senza mezzi termini ma tu sei sposato l'uomo dapprima si mette sulla difensiva poi insiste con fare aggressivo affinché Kimberly gli dica chi le aveva riferito l'informazione lei non menziona Gurley ma spiega che una donna l'aveva messa in guardia e Dyson intuisce facilmente che si tratta della moglie la relazione con Kimberly termina qui ma i problemi per Gurley sono appena iniziati non doveva mettere becco sulla sua storia clandestina e ora Dyson intende fargliela pagare maltrattarla tornato a casa si ubriaca e scattina tutta la sua rabbia sulla moglie inizia a chiamarla stronza bugiarda e imbrogliona sentite da che pulpito viene la predica santo cielo come se non fosse già andato oltre la spinge la colpisce la prende a calci la ferra per il collo e le scaglia pugni in faccia la sua presa è così forte che Gurley perde quasi conoscenza ma a lui non importa niente quindi continua fino a quando un'inquilina decide di chiamare la polizia a quanto pare la coppia condivideva la casa con una terza persona di nome Shelly che occupava una delle camere da letto Shelly allarmata dal fracasso esce dalla sua stanza Dyson allora piuttosto che fermarsi afferra Gurley e la trascina nella loro camera da letto chiude la porta e continua a picchiarla la lancia contro un cassettone che ricade sopra di lei mentre Dimitri che ormai ha due anni sta assistendo a tutta la scena Shelly rimasta fuori dalla camera continua a sentire il baccano e sa che lì dentro c'è anche il bambino assalita dal panico esce e va a bussare alla porta del vicino Pedro di 75 anni per chiedergli aiuto mentre Shelly chiama la polizia Pedro decide di intervenire entra in quella camera da letto e vede Dyson che sbatte la testa di Gurley contro il muro ripetutamente Pedro si lancia nella stanza Gurley allora riesce a liberarsi e il vicino le urla scappa va a casa mia sopraggiunge la polizia che soccorre Gurley e la donna è messa davvero male ha un labbro spaccato e sanguinante la sua faccia è rossa e sta per riempirsi di lividi evidenzia segni di strangolamento importanti sul collo e un grosso taglio lungo il lato interno della gamba destra Dyson viene arrestato immediatamente e accusato di violenza domestica aggravata da percosse e aggressione quando il caso va a processo però tutte le accuse vengono archiviate Gurley ha timore di testimoniare contro suo marito in quanto sa che potrebbe finire male qualora venisse dichiarato innocente in caso contrario entro pochi anni dalla condanna sarebbe comunque uscito di prigione desideroso di vendicarsi trascorre circa un mese dalla fine della relazione con Kimberly e dall'aggressione ai danni di Gurley è l'agosto del 1998 e Dyson vuole trovare una nuova vittima da truffare incontra così la cinquantenne Julie che ha divorziato di recente durante il matrimonio la donna aveva subito tanti terribili abusi anche lei era vittima di violenza domestica Julie ora sta cercando di ripartire con la sua vita e ha pubblicato un annuncio su un sito di incontri online Dyson decide di farsi avanti sembra che abbia una calamita che lo attira in tempi record verso donne fragili e vulnerabili è impressionante si presenta Julie come un dottore straordinario anzi un chirurgo straordinario e racconta che suo padre tedesco e sua madre giapponese le razze per lui superiori spiega che lavora per la NSA un organismo del dipartimento degli stati uniti d'America responsabile della sicurezza nazionale dice che ha conseguito un master all'università di Stanford e che possiede un laboratorio in cui conduce degli esperimenti ovviamente non dimentica di certo di raccontare la solita triste storia della moglie morta in un incidente stradale ora inventa pure che lui stesso aveva preso parte in un'operazione di emergenza per salvarle la vita ma purtroppo la sua amata era venuta a mancare proprio sotto i suoi occhi di conseguenza era un padre single che lottava per ritrovare un po' di pace perché dopo la morte di sua moglie niente aveva avuto più senso durante il primo appuntamento con Julie Dyson porta con sé il piccolo Dimitri per manipolarla più in fretta inventa anche una storia assurda su come aveva creato personalmente suo figlio Dimitri infatti è uno dei 12 bambini geneticamente modificati in un laboratorio della NSA Dyson quindi spiega che il suo liquido seminale era stato usato per fertilizzare i 12 ovuli appartenenti a 12 donne diverse infine racconta che questi bambini erano cresciuti nel laboratorio in cui erano stati creati Julie è l'ennesima donna che in buona fede crede alle storie mirabolanti di questo imbroglione anzi a un certo punto gli confida che si sente davvero vecchia ma non è pronta a sfiorire perché percepisce che la vita ha ancora molto da offrirle a Dyson ovviamente ora si alzano le antennine le rivela immediatamente che lui può impedirle di invecchiare anzi può addirittura far retrocedere l'invecchiamento grazie a un siero della giovinezza Julie quando sente questa frase è in balia dell'emozione e vuole saperne di più Dyson le confida che aveva rubato questo siero alla NSA e che avrebbe potuto farla sembrare giovane per sempre tuttavia c'è un però questo siero costa 32.000 dollari per iniezione ma siccome Dyson tiene tanto a Julie le avrebbe applicato il 90% di sconto quindi in pratica le avrebbe chiesto solo 3.200 dollari a iniezione ma ne occorrono tante per raggiungere un buon risultato devono coprire un periodo di almeno 6 anni a Julie però non importa né del tempo che avrebbe impiegato per ringiovanire né del prezzo del siero non ha fretta ed è risposta a pagare quella cifra Dyson siccome aveva rubato un siero dal valore di circa un miliardo di dollari raccomanda a Julie di non dire a nessuno che avrebbe praticato queste iniezioni se la NSA avesse scoperto il furto l'avrebbero sicuramente ucciso e sempre stando alle bugie che racconta Dyson la NSA stava anche cercando di uccidere tutti e 12 i bambini creati in laboratorio compreso Dimitri siamo all'inizio del 1999 e Dyson e Julie escono insieme da circa 6 mesi e lui ovviamente le sta spillando un sacco di soldi nel frattempo i maltrattamenti gli abusi domestici perpetrati sulla povera girly diventano sempre più pesanti lei crede ancora che Dyson sia un dottore che stia viaggiando in tutto il mondo per eseguire interventi chirurgici importanti ormai sa che suo marito è un uomo violento sa che ha diverse relazioni extracognugali ma ancora ignora che è un truffatore uno che mente ogni volta che apre bocca in casa in realtà c'è una camera soprannominata la stanza di Dyson dove non le è permesso di entrare nessuno può farlo tranne Dyson stesso in realtà in 6 anni di matrimonio girly ha sempre rispettato la sua richiesta non ha mai sbirciato lì dentro convinta che quella stanza fosse una sorta di studio contenenti documenti riservati sui pazienti del marito tuttavia ora girly ne ha abbastanza percepisce che sta succedendo qualcosa di losco e decide di esplorare la camera proibita come nella favola di barba blu a questo punto la moglie scopre tutte le bugie e i segreti del marito innanzitutto girly apprende che lui non si chiama davvero Dyson Ossenkoft e che non è davvero un dottore trova dei documenti sulle donne che Dyson sta truffando o ha truffato scopre l'esistenza del suo fantastico finto siero della giovinezza e di quello che cura fintamente il cancro l'unica cosa che girly non riesce a capire è che Dimitri non è stato adottato di certo è bastato tutto quello che ha appreso per farle crollare il mondo addosso visto che il suo matrimonio si basava su una lunga serie di bugie girly a questo punto è scioccata e non vuole essere coinvolta in truffe del genere quindi decide di affrontare Dyson e smascherarlo lui si infuria e ribalta completamente la situazione dicendo che lei aveva tradito la sua fiducia entrando in quella stanza l'avverte che gliel'avrebbe fatta pagare davvero cara poi però stranamente la lite si placa Dyson smette di parlare dell'accaduto e così fa anche girly immagino perché temesse di essere picchiata ancora passa qualche giorno i due stanno guardando insieme la televisione quando Dyson di colpo si gira verso girly e le dà un ordine deve guidare fino in centro per prendere un menù da un hotel e per arrivarci vuole che percorra necessariamente l'autostrada girly è stranita da questa richiesta ma lo asseconda Dyson allora si alza dal divano dicendo a sua moglie che vuole bere un succo di frutta ma al posto di andare in cucina si dirige in garage e rimane lì per un po' girly si insospettisce nel frattempo perché sente degli strani rumori allora decide di andare a controllare scopre così che Dyson sta cercando di allentare una gomma della sua auto il suo diabolico piano si è svelato vuole ucciderla facendo in modo che sembra un incidente così non avrebbe dovuto liberarsi del corpo crearsi un alibi girly cogliendo in flagrante Dyson che traffica con la sua macchina esclama cosa diavolo stai facendo? lui di nuovo va su tutte le furie si precipita verso di lei e la spinge fino a farla cadere sul pavimento proprio di fronte alla macchina prova di nuovo a prenderla a pugni ma girly riesce a scappare preme il pulsante per aprire la porta elettronica del garage vi rotola sotto e corre verso casa di Pedro il vicino che l'aveva già aiutata in precedenza lui l'accoglie immaginando cosa stia succedendo girly terrorizzata gli ripete aiutami per favore o mi ucciderà mi ucciderà sono certa che mi ucciderà non so che cosa fare la polizia viene chiamata di nuovo e questa volta girly racconta tutto gli agenti la scortano personalmente in casa per permetterle di prendere alcune cose dopodiché girly non tornerà lì mai più purtroppo daison non le ha dato il permesso di prendere dimitri con sé e ora merita su come fargliela pagare girly si trasferisce in un altro appartamento e si barrica in casa nessuno e ripeto nessuno sa dove viva a parte qualche collega per necessità lavorative girly lotta con tutta se stessa per ottenere la custodia di dimitri che ormai ha circa tre anni alla fine però purtroppo perde la battaglia il bimbo resta con suo padre che in questo periodo complicato sta continuando a portare avanti la relazione con giulie tanto che le affida sempre il figlio giulie si prende cura del piccolo volentieri ma nota qualcosa di strano dimitri parla pochissimo e quelle rare volte in cui lo fa quando risponde alle domande di giulie pronuncia le parole in modo robotico e impostato inoltre per la maggior parte del tempo questo bambino sembra spaisato con lo sguardo perso nel vuoto infine giulie si accorge che il bimbo ha dei segni di aghi tra le dita dei piedi e sulle braccia così inizia a dubitare di Dyson crede che stia somministrando qualche sostanza al figlio per tenerlo sempre calmo un giorno giulie nota che dimitri ha dei lividi sulle tempie e gli chiede come se li sia procurati al che il bambino risponde soltanto il pizzicotto di papà in un'altra occasione mentre giulie cambia dimitri scopre che il suo è rosso e gonfio inoltre ha pure un'eruzione cutanea sulla zona pelvica per giulie questa è la goccia che fa traboccare il vaso ormai è convinta che il bambino è vittima di abuso dunque chiama i servizi sociali per denunciare la situazione viene così aperta un'indagine intanto giulie continua a chiedere a dimitri cosa gli sia successo ma il bambino non rivela niente giulie preoccupata racconta una cara amica che fa la psicologa della situazione di dimitri dei segni che ha visto sul suo corpo e del suo comportamento strano le chiede come avrebbe dovuto parlargli per farlo aprire con lei l'amica psicologa dubita che possa accadere perché dyson di certo aveva fatto di tutto per impedire al figlio di parlare degli abusi propone però un'altra soluzione giulie avrebbe dovuto regalare a dimitri un rossacchiotto di peluche per poi dire al bimbo guarda questo rossacchiotto è tuo amico e ha bisogno di cure perché è stato ferito dalla sua mamma e dal suo papà lui è piccolo proprio come te quindi ti prenderai cura di lui giulie segue il consiglio dimitri afferra immediatamente l'orsacchiotto lo coccola lo abbraccia gli fa le carezze sapendo che l'orsacchiotto è stato maltrattato gli sussurra non preoccuparti ora siamo al sicuro a giulie si spezza il cuore in mille pezzi perché ha conferma che dimitri sta subendo degli abusi in quanto rivede se stesso in quell'orsacchiotto decide di continuare a stare con daison soltanto per tenere d'occhio dimitri nel frattempo daison sta truffando tante altre donne di cui però non sono note le identità ha addirittura due fidanzate anche se è ancora sposato con girly parliamo ora di un'altra donna importante per le dinamiche di questo caso si chiama linda hinning nasce il 10 ottobre del 1953 cresce a hollywood e dopo il liceo lavora come modella ora ha 45 anni se raccava piuttosto bene ed è fidanzata tuttavia è triste perché i suoi genitori stanno divorziando inoltre linda è una grande complottista una fan delle teorie della cospirazione è ossessionata dagli ufo convinta che il mondo sia dominato da alieni durante l'estate del 1999 linda sta partecipando a una convention sulla teoria del complotto e incontra Dyson anche lui è affascinato da questi argomenti chi l'avrebbe mai detto i due vanno subito d'accordo e lui rivela di essere un alieno di 2000 anni afferma che il mondo è pieno di alieni cattivi che controllano i governi di tutto il mondo ma lui è un alieno che agisce per il bene mandato sulla terra per uccidere i nemici e salvare il pianeta linda è incantata da Dyson e in un paio di settimane lascia il fidanzato per iniziare una relazione con lui Dyson quindi ora ha tre fidanzate e una moglie appena i due iniziano a frequentarsi la personalità di linda cambia profondamente indossa sempre gli stessi vestiti smette di prendersi cura di sé e trascura la propria igiene personale non parla più con la famiglia e gli amici a meno che non li incontri per proporre loro il siero anti-età di Dyson il finto dottore esercita un completo controllo su di lei linda crede davvero che Dyson sia un alieno rettiliano di 2000 anni contemporaneamente girly continua a nascondersi nel suo appartamento esce soltanto per andare al lavoro inizia la procedura per il divorzio e lei spera di acquisire la metà del patrimonio di Dyson inoltre sta di nuovo cercando di ottenere la custodia di Dimitri quando Dyson scopre i suoi due obiettivi tanto per cambiare si infuria così tanto che arriva a perseguitarla sul luogo di lavoro molestando sia lei che i colleghi girly quando esce dalla banca si ritrova spesso la macchina vandalizzata ed è chiaro che il colpevole è Dyson l'uomo viene arrestato più volte ma sempre rilasciato presto è avvilente questa situazione perché girly si è comportata nel modo corretto l'ha lasciato e si è trasferita in un appartamento in segreto visto che pochissimi conoscono la sua posizione ogni volta che Dyson la importuna al lavoro girly denuncia la situazione ma non viene preso alcun provvedimento concreto per proteggerla il marito ha ancora la custodia di Dimitri gli assistenti sociali non sono mai intervenuti a questo punto Dyson dice alla soggiogabile linda che la donna dalla quale sta divorziando è pericolosa è un'aliena cattiva la malvagia regina dei rettiliani girly è stata mandata sulla terra per distruggerla loro due insieme devono fare qualcosa per risolvere la situazione sono gli unici a poter abbattere la malvagia regina dei rettiliani così Dyson e Linda iniziano a molestare insieme girly che nel frattempo sta cercando di concludere il divorzio e portare in tribunale il marito per le accuse di violenza domestica risalenti a otto mesi prima avvelita girly si confida con dei colleghi dicendo loro che suo marito è completamente pazzo se un giorno non fosse venuta al lavoro senza prima avvisare avrebbero dovuto chiamare immediatamente la polizia perché significava che lei le aveva fatto qualcosa di brutto girly inizia anche a collaborare con l'fbi che sta indagando su Dyson per le accuse di frode quindi rivela tutto quello che sa insomma girly spera con tutto il cuore che Dyson vada in prigione così da ottenere la custodia di Dimitri e andare avanti con la sua vita arriviamo al 10 settembre 1999 quando Girly non si presenta al lavoro dopo circa un'ora i colleghi iniziano a preoccuparsi seriamente temono che il marito le abbia davvero fatto del male e chiamano la polizia che si reca verso l'appartamento di Girly quando gli agenti bussano alla porta però nessuno apre così fanno irruzione e notano che la casa è fin troppo pulita non c'è nessuna traccia della donna ma si avverte un sospetto odore di candeggina controllano il tappeto del salotto e individuano delle macchie umide come se fosse stato lavato recentemente con una pulitrice a vapore gli agenti decidono di usare il luminol e scoprono così che l'appartamento è pieno di tracce di sangue viene denunciata la scomparsa della donna e la sua casa è considerata una scena del crimine la polizia avvia le indagini e ovviamente il sospettato in cima alla lista è Dyson gli agenti vanno a casa sua dal Buquerque ma nessuno risponde la porta d'ingresso però è so chiusa quindi entrano e si rendono conto che in casa non c'è più niente neanche i mobili Dyson quindi si è trasferito la polizia fa qualche domanda ai vicini quali dicono che si è comportato in modo sospetto negli ultimi giorni la notte precedente alla scomparsa di Gurley uno dei vicini l'ha visto rientrare a casa con addosso dei vestiti mimetici la polizia persegue lo stringente obiettivo di rintracciare Dyson e scopre che frequenta una certa Linda Henning quindi decide di andare da lei Dyson non è neanche a casa di Linda ma la donna viene sottoposta in un interrogatorio e canta come un fringuello dicendo alla polizia che Dyson è un alieno di 2000 anni con l'obiettivo di salvare il mondo Linda spiega che si sta prendendo cura di Dyson perché l'uomo sta morendo a causa di un melanoma sostiene di non sapere nulla della scomparsa di Gurley non sa nemmeno chi sia questa donna da questo interrogatorio la polizia non scopre nulla di utile a parte il fatto che Dyson ha delle convinzioni alquanto singolari gli agenti lasciano andare Linda ma poi quest'ultima scappa il giorno dopo alla stazione di polizia arriva una telefonata è stato trovato qualcosa sull'autostrada 60 del New Mexico qualcuno si è imbattuto in un pezzo di tela cerata coperto di sangue l'oggetto viene esaminato e nella parte superiore del telo si scoprono dei vestiti ammucchiati so il sangue che gli abiti appartengono a Gurley l'area circostante viene perquisita ma non c'è alcuna traccia del suo corpo a questo punto gli inquirenti non cercano più una donna scomparsa sono convinti che sia morta dunque l'investigazione cambia diventa un'indagine per omicidio Linda e Dyson a questo punto non si trovano da nessuna parte ma la polizia inizia a ricevere diverse chiamate da varie persone che Dyson aveva contattato rivolgendo loro delle minacce non è noto il contenuto delle telefonate ma con questa azione Dyson ha commesso un passo falso perché ora la polizia riesce a localizzarlo si trova a Charleston nel South Carolina insieme a un'altra donna con cui si è fidanzato il suo nome Cheryl è un'altra vittima di Dyson anche lei in balia del suo totale controllo soggetta a credere a tutto ciò che lui le dice Cheryl è convinta di avere una fantastica relazione con Dyson presto i due avrebbero addirittura dovuto sposarsi secondo lei ma in realtà chiaramente Dyson sta truffando anche Cheryl quando la polizia irrompe in casa della donna arresta immediatamente Dyson e perquisisce la casa ritrova il documento di identità di Gurley la sua rubrica due fielle di sangue una pulitrice a vapore e una pistola solo in questo momento Cheryl scopre che Dyson è ricercato per l'omicidio della moglie la polizia riesce anche a rintracciare Linda che viene altrettanto arrestata e ottiene un mandato di perquisizione per la sua casa dove gli agenti trovano una spada da samurai con la ricevuta da questo l'arma era stata comprata il giorno prima della scomparsa di Gurley intanto la scientifica esegue delle analisi sulla scena del crimine cioè a casa di Gurley gli esperti rilevano così il suo sangue ma non solo perché individuano anche quello di Linda questo ulteriore indizio suggerisce la sua presenza sul luogo del delitto viene rilevato anche un capello di Linda che era attaccato al pezzo di tela cerata coperto di sangue trovato in autostrada a questo punto manca soltanto il corpo di Gurley ma la polizia ha prove sufficienti per accusare Dyson e Linda dell'omicidio della donna passano due anni ma il corpo di Gurley ancora non si trova è il 2002 e Dyson e Linda stanno per essere processati Dyson si dichiara colpevole di omicidio di primo grado per evitare la pena di morte quindi effettivamente non va a processo ma Linda si dichiara non colpevole per un motivo a me totalmente sconosciuto il testimone più importante per chiarire il coinvolgimento di Linda nella vicenda è proprio Dyson in tutta onestà non capisco come la difesa reputi che sia una mossa saggia far testimoniare un assassino un bugiardo patologico per dimostrare l'innocenza di Linda Dyson dice che Linda è completamente innocente non è coinvolta nell'omicidio di Gurley sostiene di averla incastrata era stato lui a collocare il suo sangue sulla scena del crimine ricordate che a Dyson piace un sacco il sangue lo aveva prelevato a tutte le donne con cui era entrato in confidenza sottolinea inoltre di non provare alcun tipo di rimorso o dolore per l'omicidio commesso infine conclude la sua testimonianza dicendo che non gli importa se il tribunale condannerà Linda a morte anzi così facendo sarebbe stata la giustizia a uccidere la sua prossima vittima nonostante la testimonianza di Dyson Linda viene dichiarata colpevole di omicidio di primo grado di rapimento cospirazione per rapire qualcuno e manomissione di prove non riceve la pena di morte ma viene condannata a 73 anni di prigione Dyson invece viene condannato all'ergastolo ma non è finita qui perché c'è un'altra persona processata per il coinvolgimento dell'omicidio di Gurley un uomo di nome Bill Miller a quanto pare è un amico di Dyson e anche lui aveva incontrato Linda durante una di quelle convention sulla teoria del complotto e in effetti durante il processo di Linda Dyson incolpa Bill Miller dell'omicidio di Gurley anche se non sussistono prove che quest'uomo l'abbia uccisa ma a quanto pare era presente sulla scena del delitto viene quindi accusato di manomissione delle prove e condannato a un anno di libertà vigilata negli anni sono state avanzate diverse teorie per spiegare la scomparsa del corpo di Gurley ad esempio si dice che Dyson e Linda lo abbiano mangiato per far sparire le prove ma questa è solo una teoria dopo il processo Linda continua a dichiararsi innocente rilascia davvero tante interviste ma oggi è ancora in prigione Dyson invece ha cercato di appellarsi alla sua sentenza l'ultima volta ci ha provato nel 2020 ma l'esito dell'appello non è ancora stato rivelato ci sono troppe domande su questo caso rimaste senza risposta la prima è cosa è successo realmente a Gurley Dyson non ha mai spiegato come abbia ucciso sua moglie e come si sia liberato del suo corpo ma come detto si presume che sulla scena del crimine ci fossero sia lui che Linda e forse anche Bill Miller probabilmente si è verificata una collutazione tra Gurley e Linda e si presume che quest'ultima l'abbia uccisa usando la spada da samurai la vittima aveva sicuramente perso molto sangue una volta senza vita Dyson Linda e Bill avevano avvolto il corpo di Gurley nel pezzo di tela cerata per poi buttarla nel deserto del New Mexico in questo caso è possibile che gli animali lo abbiano mangiato Gurley tecnicamente ancora oggi resta una persona scomparsa la seconda domanda che mi sono posta anche io è Linda è davvero colpevole? la prova del DNA è schiacciante il sangue di Linda è stato rilevato sulla scena del crimine insieme a quello della vittima ma è anche vero che Dyson ha ammesso in tribunale di aver collocato lui stesso il sangue di Linda sul luogo del delitto qual è la verità? credo che Dyson non sia un testimone attendibile nella sua vita non ha fatto altro che mentire quindi potrebbe aver detto una bugia anche sotto il giuramento è possibile che la spada da samurai la abbia posizionato Dyson a casa di Linda senza che lei lo sapesse e quella spada come detto è considerata la possibile arma del delitto voi cosa ne pensate? detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video fatemi sapere davvero cosa ne pensate di questo caso e cosa pensate se è realmente accaduto e sono molto curiosa di leggere le vostre opinioni e che dire di questo caso se non che Dyson è un pazzoide di prima categoria io una storia così assurda non penso di averla mai letta a parte le storie interne alle sette che sono una cosa tutta a parte ma conoscevate questo caso? fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se lo conoscevate cosa ne pensate di Dyson quest'uomo che ha il nome di un aspirapolvere o di un phon fatemi sapere insomma io nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti